Preparatevi perché adesso vi si ammoscerà subito perché mostreranno i c***i... Sì, lo sapete che questo personaggio era... inizialmente il suo costume secondario era verde Ok, iniziamo Bella Toshi Bella Toshune Alza un po' il volume ora Oh, Legend Update Info Ok Ci siamo raga, ci siamo Information però Più skip ticati insieme forse Oh, finalmente Blazzi lo diceva da un po' Sì, ma pure io rompevo le scatole e sta roba Cioè, speriamo intanto, eh No, 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 è così per forza Metà novembre Oh, bene, bene, sì Più di dieci skip di casa alla volta Oh, grazie Gesù Bene, bene Hanno rivisto l'Energy Denk, allora Finalmente l'hanno rivisto, decentemente, ora Story Level Sync, ok, una roba a livello di bonus No, ti abbassano il livello perché ormai il capo è del 5.000 l'hanno raggiunto per me Aspetta Ok Esatto Quello ci sta Un grade, no Anche per, sì, fare le challenge tipo tira tre strike a un personaggio di livello 200 Esatto Il mio personaggio è 5.000 Che poi o da tutto potrebbero fare le cose più divertenti Magari Shallot è stanco contro Ghiblet Gli riducemo un po' il livello E puoi giocare solo con lui magari Cioè, è anche più divertente Nooo Cosa? No, no Ah, è una battle version Cosa? No, non ho il tempo per master hack Gordo, godo Perfect Vanish Eh, speriamo Ok, arriveranno più dettagli più in là Ok, ok Magari la parata Ok, Legends News Il TC di Toshi Eccolo qua Qualcosa per Halloween Spooky and Sweet Super Halloween Andiamo Ok Sta leggendo Ok Sì, è vero Aga raga Legends Limited Multi-Z Power Scambiabili Wow Scambiabili È vero Cazzo Aspetonatemi la parola Fatemi tutti i gol Ma va È il momento Nuovi personaggi raga Nuovi personaggi Silenzio eh Non dite nulla No spoiler Fermi Non atteso Non atteso Non ci credo Non ci credo Ragazzi l'avevo scritto nel video Non ci credo Davvero Giuro Giuro Ciampa raga Ciampa Giuro No vabbè Non ci credo Ok è un blaster È un blaster Che ha un sacco di attribute downgrade per l'avversario Unic ability Che accorcia il tempo di sostituzione degli alleati Bello Figo God key raga Serviva Da una vita che non esco un god key E in più puoi strancherai bagli universe Universo 6 Può essere tutto raga Può essere tutto God key Sì 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 Ah è buono questo eh Come Molto buono Ciampa Ok Un altro inatteso Che è collegato Vados Ok 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 God key Sì 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 Bene raga God key Probabile Di salita Cioè Ma è extremo sparking E può bloccare gli attacchi avversari con la sua verde Comunque andiamo sempre in quella direzione eh Rival universe Questi sicuro sono ancora rival Sì Già 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 Ok Erano questi qua Non ci credo mai Fine Ho paura di sì Vediamo Ok E Boggetta Boggetta Red Vista che Ce lo siamo sognati ragazzi Ce lo siamo sognati forse Ci hanno cabbati Non ci credo Bye Bye Non ci credo Mi sa proprio di sì raga Lodo finale Ma perché Termo nero Qualcosa di strano No Thank you for watching Thank you for watching No è finita Pazzo è finita È finito È finita qua raga Io vi dico la verità Cioè La cosa È finita qui Allora Sono mezzo deluso Perché non è Tant'è vero Che io nel mio video Ragazzi A un certo punto Avevo scritto E poi annunciano Ciampa Così Non ci credo Cioè Ma l'avevo scritto Proprio per dire Ci stiamo hypando Ma tanto ci annunciano Ciampa Per nulla E ci hanno E ci hanno effettivamente Annunciato Ciampa E quella la roba Allucinante Allora Cioè Io me lo faccio vedere Perdonate Me lo faccio vedere Altrimenti non mi si crede Magari sono tra le due stelle Vedremo Io credo 100 Secondo me sono 100 ragazzi Solo per i due e tre Esatto Uguale Parti passare le due e tre stelle Vedremo 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 Funzionare Se ce ne cacciano 600 Tanto di cappello Tutti i ragazzi Che volevano portarsi Gohan A Senkai Beerus Vegito C'è nessuno Beerus ora in teoria È da fare Ora Beerus è da fare Da novembre Io l'ho portato uno più Proprio stamattina Beerus Che l'ho trovato Nell'Happy Weekend Sì Bello vai Con Beerus due stelle Sì No allora A mio parere Tanta delusione Per tante persone Perché comunque Hanno annunciato Personaggi Che non sono così Naip Perché ok Sicuro risollevano il God Keychamp E vado Sono abbastanza figli Come personaggi Ma la gente Si aspettava Molta 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 Più roba Io sto leggendo La chat Qui Nella Premiera Insomma Tutti a scrivere F Cioè Ragazzi ma perché Mettere Ma perché fanno Sti video in staff Per annunciare Cacate ogni volta Non ho capito Cioè piuttosto Annunciamene con un video Su Facebook Che fai prima Secondo me Ma allora Ti dico la verità Mi avrebbe Hyppato di più Probabilmente Se avessimo visto Vegeta Assist Cioè Vegeta Assist Con Metalcura Si 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 Bella Sean No è vero È vero È vero Non sono tanto Hype Però comunque Sono personaggi Che servivano Ragazzi Sono personaggi Molto utili Per tanti team Almeno personaggi Nuovi Almeno quello Anche quello I ragazzi Non li han detti Giusto Non li han detti Però No Ma ipotizzo Joel e Rose Rival Universe C'è Basil Che è blu Giusto È in effetti È la vendor Che è viola Per me sono giallo Vabbè il giallo Manca da un secolo Sì Giallo serve Anche il rosso Perché tanto così È Cioè ormai Tipo un minion Quindi credo che Giallo e il rosso Siano perfetti Poi Ciampa In teoria Anche Blaster Quindi con Virus Ci gira Benissimo Con Virus E ZENK7 Sì Blaster Sì Giallo e Giallo e rossa Poi vengito Blu Ti lascio insieme Maso Viola Sì Vados potrebbe Prendere il posto Di Wiz Potenzialmente Sì esatto Come support Ma sono due Sparking quindi A sto punto Sì 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 Però fanno un banner Con un extreme E una sparking sola Sicuramente No 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 Sono sparking Ma Vados è sicuro Tipo support Con bonus aggiuntivi Per Ciampa Un po' come Tra l'altro Dovrebbe Dovrebbero Dico dovrebbero Essere torneo Del potere Perché io vedo Sullo sfondo Di Ciampa Lo sfondo verde Del torneo Non so se Lo vedo solo io Magari Però Che però Non hanno combattuto Durante il torneo Del potere Loro Però comunque Ci rientrano Cioè ci sta Ci sta A sto punto Non potevano farceli vedere Già in game E infatti Ci potevano farci Ste sfide Con i personaggi Cioè non ho capito Proprio Il senso Di fare Quei match PvP Infatti Ci hanno trollato Ragazzi Poi finire anche In parità Non si è capita Sta cosa Strana cosa Chiedono Saranno step up Boh Potrebbe anche essere Cioè non sarebbe male Come cosa Se fosse step up Cioè di sicuro Ragazzi Non c'è la LF In questo banner A meno che Non ci facciano La sorpresora Ma a questo punto L'avrebbero L'avrebbero Già annunciata Ma ragazzi Secondo me Torniamo sempre Al solito discorso Sti video in staff Sono carini Però non dovrebbero Annunciare Ste unità Quando fanno Sti video in staff Cioè alla fine Parliamoci chiaro Che cosa ci resta Realmente Da questo video in staff A parte due unità Che onestamente Potevano uscire Tranquillamente In un momento A caso Del gioco Cosa ci rimane Il Il fatto che Ci hanno migliorato Il gioco Blasi al massimo La felicità Le informazioni Sì Perdonami Ma che ci vuole A fare una news in game Oppure questa Era la cosa Che mi domandavo L'altra volta Ma perché fare Questi event Di mettere hype E poi alla fine Far vedere Anzi che Addirittura Bella Scusami Scusami Perdonatemi Perdonatemi Abbiamo creato Sto coso Cioè Sembra così Piuttosto Piuttosto che Piuttosto che Piuttosto che Piuttosto che un postettino Quanto è stato Vedere Le cose L'hai fatta funzionante La prima volta Basta Hai trovato La roba che funziona Falla sempre Scusami